Più forte degli avversari e soprattutto delle assenze. Il Fuzzal Cesena conquista la prima vittoria stagionale a Fano, nonostante nove infortunati che hanno costretto il tecnico Vespignani a convocare e impiegare numerosi giovani. Primo tempo chiusosi col minimo scarto grazie a Bianco. Nella ripresa l'etabeta spreca un calcio di rigore e va sotto sul 2-0 con Baldisserri. Accorcia le distanze e il portiere di movimento l'Ura in sete, ma capitola con la doppietta di Bianco. A nulla infatti è servita sul gong e alla rete dalla distanza abissale di Aluni per il 2-3 finale. C'è poco da dire, abbiamo fatto un miracolo con dieci ragazzi fuori, siamo venuti qui con dei ragazzini che fino a ieri giocavano in Andalicinove. Abbiamo fatto una partita che solo il Cesena può tirare fuori, con la voglia, con la grinta, sputando sangue per la maglia. Adesso la dedichiamo sicuramente a tutti gli infortunati, soprattutto al capitano che ha avuto un piccolo infortunio. Speriamo torni presto, che ci deve dare una mano perché quest'anno sarà una delle stagioni più dure da affrontare in Serie B col Cesena.